Noi di Formeating non offriamo solo una soluzione di learning, ma garantiamo al nostro cliente di fare business con la formazione online. Chi sono? Sono Matteo Barberi, sono docente ed esperto di formazione e formazione online da ben oltre 20 anni. Oggi Formeating gestisce oltre 350 realtà formative, tra aziende B2B, enti accreditati regionali e nazionali e provider ICM. Ora se tu sei un provider ICM, un'azienda B2B che fa formazione interna o un ente accreditato, sai quanto è importante il tracciamento dei tuoi percorsi formativi online per garantirti la sicurezza nei confronti degli enti accreditati nazionali e regionali. Ma sai anche quanto il tempo incide sul tuo business e sul tempo di gestione di un percorso formativo. Ora Formeating cosa ti garantisce? Due cose fondamentali. Da una parte la sicurezza che ogni percorso formativo messo online sarà a norma di qualunque normativa regionale e nazionale per ottenere i crediti nei confronti dei tuoi studenti. ma anche di farti risparmiare tanto e tanto tempo perché grazie all'automazione di tutti i processi dall'iscrizione al lascio dell'attestato ma in modo particolare la facilità di scaricamento di report con un semplice clic in un secondo, ho detto un secondo, avete tutto pronto per poter inviare all'ente accreditato questo è un grande successo che Formeating ha voluto realizzare per voi ma non finisce qui perché Formeating ha pensato anche a iper personalizzazione grafica perché l'ambiente in cui devono vivere i vostri corsisti e studenti deve essere vostro ed esclusivo ma ha anche pensato che per realizzare un business c'è bisogno anche di essere affiancato da esperti perché il coaching è di formazione che vi porta a realizzare o a migliorare il vostro business formativo. Allora adesso cosa devi fare? Leggi la pagina web, guarda tutte le informazioni per scegliere Formeating come tuo partner formativo e in fondo trovi anche la possibilità esclusiva di poter chiedere una prima consulenza con me in cui parleremo del tuo progetto e vedremo poter collaborare. Allora adesso ti aspetto online grazie da Formeating e Matteo Barberi, Formeating.